Sei un DJ? Questo video è per te. Ciao, io sono Simone Trogo e insieme al mio socio ho fondato Music's Marketing, il più grande ecosistema in Italia oggi che aiuta gli artisti di qualsiasi genere o categoria a trasformare la propria passione per la musica in un business sostenibile. Oggi parliamo dei DJ, vogliamo fare una chiacchiera su questo argomento, vogliamo fare un video dedicato questa volta, non generico su qualsiasi categoria di artisti, ma approfondendo l'argomento dei DJ e quindi tutto il mondo delle discoteche e dei locali, che è un mondo che mi sta molto a cuore perché come tanti di voi sanno io sono partito dal mondo degli eventi, quindi ho fatto per 5 anni l'organizzatore di eventi, prima organizzavamo serate, poi ho gestito per 2 anni una discoteca con un socio qua della mia città a Crema e poi mi sono buttato nel mondo del marketing fino a poi a fondare Music's e l'azienda con Emanuel, tutto quello che facciamo. E quindi è un mondo che mi sta abbastanza a cuore, conosco molto bene, ho tanti amici che fanno i DJ, ho avuto DJ che hanno lavorato per me ed è un contesto che ho visto a vari livelli, nel senso che comunque abbiamo fatto anche ospiti importanti e abbiamo anche collaborato con eventi importanti, sia Riccione che è una in Italia, oggi c'è chi l'ama, c'è chi la odia, ma è ancora uno dei, sicuramente delle location più importanti per quanto riguarda la musica elettronica, il mondo dei DJ e con il number one di Brescia con cui siamo amici con Steven che è uno dei proprietari, con tantissime discoteche in Italia, lo stesso Ali Big Mama con cui abbiamo fatto anche dei video, un'intervista in community, sicuramente è un mondo che conosco molto bene, ci sono stato molto dentro e l'ho vissuto da i DJ importanti che chiedono cifre astronomiche che abbiamo valutato di fare o abbiamo fatto magari con organizzatori importanti o discoteche molto importanti, a il DJ che fa la serata in discoteca e nella seconda sala, piuttosto che il DJ che non riesce neanche a suonare o quello che suona nei bar eccetera, quindi ho avuto modo di toccare tutti gli aspetti del pratico, della vita quotidiana di un DJ, da le gioie e i dolori, mettiamola così. E quindi voglio fare in questo video raccontare un pochettino quello che è il nostro percepito dei DJ, quali sono secondo noi quei concetti sbagliati molto spesso che un DJ ha, quali sono quelle credenze che non sono reali, sono semplicemente convinzioni che lo sviano da quella che è la giusta direzione e vediamo invece quella che secondo noi è la visione corretta che un DJ dovrebbe avere per promuovere e monetizzare la sua musica. Partiamo subito dal dire che sicuramente c'è una prima, ovviamente ci sono tante differenze nel mondo dei DJ, c'è chi si fa soltanto determinati generi, quindi facciamo un esempio da tecno, è un mondo un po' a sé sicuramente, piuttosto che DJ che fanno house, piuttosto che DJ da matrimonio, cioè racchiudere tutte le categorie di DJ in un unico discorso, ovviamente è limitante, però cercherò di toccare un pochettino tutte le realtà, tutte le situazioni possibili. E sicuramente una prima importante distinzione è il DJ che quello che fa è suonare nei locali, suonare nei bar, suonare in discoteca, fare i matrimoni, gli eventi eccetera, però di base lui l'unica cosa che fa è, che non è da poco, è suonare e ci sono invece quelli che vogliono, escono anche con propri brani, vogliono anche produrre, quindi escono con proprie produzioni che poi vogliono ovviamente promuovere, quindi hanno l'ambizione non soltanto di suonare i locali importanti, ma di far conoscere la propria musica, le proprie creazioni. E questa è già un'importante distinzione e poi comporta anche degli investimenti, degli obiettivi e delle prospettive diverse poi nel concreto di quello che bisogna fare, quindi questa è una prima distinzione importante. Quali sono quelle che a nostro avviso sono le credenze limitanti che hanno tanti DJ e sono le convinzioni sbagliate? Quello che è un po' la mia esperienza, ma quello che abbiamo visto anche confrontandoci poi da quando è nato il progetto di MusicCon, una marea di DJ, è il fatto che c'è questa fortissima convinzione che i DJ che suonano nei bar, i DJ che suonano nei matrimoni, i DJ che non sono focalizzati sul mondo degli eventi importanti, delle discoteche importanti, sono DJ sfigati, quindi l'obiettivo è Hardwell piuttosto che Carl Cox, piuttosto che il DJ importante del tuo genere e quella persona che facendo il DJ va a fare eventi minori, che vengono considerati minori, o il longcation minori, è un cretino, è uno sfigato e sta sbagliando perché facendo così non diventerà mai quello che vuole diventare. E questa è una prima convinzione che dopo approfondiamo, su cui non siamo assolutamente concordi. Un'altra importantissima cosa che ci rendiamo conto che è veramente radicata forte nel mondo dei DJ è il fatto che c'è una fortissima convinzione che sia solo e soltanto una questione di raccomandazioni, quindi suona chi è amico del proprietario, chi è amico del PR, chi è amico dell'organizzatore, l'amico del proprietario del locale, del ristorante, quindi è tantissimo una questione di raccomandazioni, quindi vince il raccomandato, non vince il più bravo, vince quello che è amico di e quindi tante volte c'è questa presa di posizione della io non suono, io non ce la faccio, ma non perché sto sbagliando qualcosa e quindi c'è qualcosa che potrei fare meglio e migliorare e quindi mi prendo la responsabilità dei miei risultati, ma c'è uno screditare il mondo dei locali, il mondo della notte e c'è questa convinzione che è fortemente limitante perché ovviamente se tu sei in una posizione e riconosci che il problema non sei tu ma è quello che ti sta intorno, puoi smettere oggi di fare musica perché ovviamente non cambieranno i risultati che stai ottenendo. Un'altra cosa importante che secondo me è molto... non è del tutto sbagliata, però secondo me viene molto esagerata, che è la convinzione che sia fondamentale, questo conta anche molto nel mondo della trapi rapper, che è se io riesco a suonare in locali importanti, faccio qualche nome, se io riesco a suonare, parliamo della musica IDM che è uno dei mondi che conosco un pochettino di più, alla Baia Imperiale, all'altro mondo, al Kokoriko, al Number One, se vado a suonare nei locali un pochettino più conosciuti italiani delle varie città, allora il mio valore di DJ si alza. C'è un piccolo problemino, nel senso che un conto è dire io sono il DJ Residence dell'altro mondo, io suono spesso in determinati locali di alto livello e io vengo pagato per questo. Un conto, e questa cosa qua sicuramente se sei, cioè, quanti DJ vorrebbero essere i Redis Dance dell'altro mondo o di discoteche importanti a prescindere dal livello eccetera, ho fatto semplicemente un nome. Tantissimi, quindi sicuramente chi è in quella posizione ha raggiunto un obiettivo piccolo, grande, enorme, che sia sulla base di quella che è la tua ambizione, che è invidiabile, sicuramente è una posizione importante, però cos'è che viene frainteso? Viene frainteso il, visto che questa cosa qua è sicuramente invidiabile, tanti DJ vorrebbero suonare lì, se io riesco a suonare lì, sono figo, sono bravo e da lì in poi mi pagheranno di più, troverò più date. E non è assolutamente così, perché adesso quello che voglio darvi è un pochettino la percezione poi di chi è che paga i DJ, sceglie i DJ nei vari livelli. E questa cosa qua cosa fa sì? Fa sì che tanti DJ, a costo di pagare, non so quanti DJ hanno proposto, ho sentito proposte che erano disposti a pagare per andare a suonare in determinati locali, anche nella sala 3, perché tanto la cosa importante era dire io ci sono stato, farsi foto, far contenuti, facendo vedere che hanno suonato in locali importanti, che per l'amor di Dio può essere una buona strategia se è fatta con intelligenza per farsi conoscere, se è messa in leva nella maniera corretta. Ma sicuramente il fatto che tu hai suonato in quei 3 o 4 locali o che hai fatto l'apertura a determinati DJ importanti è una cosa che tra DJ fa figo, cioè se tu dici all'altro DJ io lo sai che ho suonato qui, qui, qui e qui, ho fatto l'apertura a questo, questo, questo e questo, ho fatto la chiusura di questo locale, è una cosa che tra chi fa parte del mondo DJ è figo. Ma quando ti vai a proporre un nuovo locale, quando devi proporti a un'attività per farti scegliere come resident, se parliamo di una discoteca, o se devi farti scegliere da un bar, un ristorante, una discoteca per fare una data o per fare un'ospitata, non gliene frega assolutamente un cazzo a nessuno di tutto ciò. Perché, e la cosa importante che arriviamo adesso è che l'unica cosa che conta per l'organizzatore, per il proprietario della discoteca, per il proprietario del bar, per l'organizzatore del festival, dell'evento, è sempre soltanto una cosa, ovvero quanto incasso tu gli fai fare. Che cosa significa? Può sembrare brutale ma è la sincerissima verità. Cioè, l'organizzatore, il proprietario del locale, il proprietario della discoteca, che cosa, perché sta facendo quella cosa lì? Per guadagnare dei soldi, è la sua attività, è la sua impresa, è la sua fonte di guadagno. Lui deve far sì che le serate vadano bene, perché se le serate vanno bene e piacciono, lui allora avrà un guadagno se la gente paga il biglietto, consuma, eccetera, eccetera, eccetera. E il DJ può essere visto in due modi. Nel modo del è la persona che intrattiene i miei ospiti del locale, livello 1, ovvero io voglio un bravo DJ nella mia discoteca perché so che se le persone vengono nel mio locale e si trovano bene perché la musica gli piace, questo qua gli fa ballare, è bravo capire la sala, è bravo capire la pista, sa cambiare la musica sulla base di chi è davanti, è anche di bella presenza, fa da spettacolo, cioè il pubblico grazie al DJ e alla musica del DJ è contenta di star lì e quindi mi alza il livello della serata perché la gente tornerà più volentieri, perché la gente magari sta più nel locale e consuma di più perché è presa bene dalla serata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il ruolo del DJ che all'interno del locale fa musica è fondamentale, ma questo è un livello, quindi io ti baso sulla tua capacità di fare il DJ in serata. Il secondo livello, ed è qui che si fanno i soldi, ed è qui che puoi chiedere molti più soldi, ed è qui che emergi tra i miliardi di DJ che comunque tanti sono bravi e se la cavano, è quello che porta pubblico in serata perché lui è conosciuto, perché lui porta pubblico. Questa distinzione qua è totale. Se tu riesci a passare dal livello 1 al livello 2 vinci su tutti. Approfondiamo quindi un attimo questo concetto facendo degli esempi chiari, semplici. Dovrebbe essere un concetto abbastanza scontato, ma mi rendo conto perché poi magari è una cosa che sai già, però nelle azioni che poi fai non lo dimostri. E quindi approfondiamo il concetto. Se io sono un bravo DJ, ma non ho pubblico, cioè quindi il fatto che io vado a suonare in quel locale, in quella discoteca, eccetera, non porta a quel locale persone grazie al fatto che ci sono io, ma semplicemente io sono un bravo DJ e quindi il mio lavoro e quello che vendo è, guarda che se scegli me la gente sarà contenta, ci sarà bella musica, la gente torna, la gente consuma e beve di più, io posso valere X. C'è soltanto un problema, che se io mi devo proporre un nuovo locale, lui non ha la minima cazzo di idea affinché non mi sente suonare di se sono effettivamente bravo a fare quello. E soprattutto, tante volte, è la verità che dipende tantissimo da il locale pieno vuoto, che gente c'è nel locale, qual è il mood di quel locale. Perché se tu vai in un locale fighettino, molto di gente che va lì, ma che della musica se ne frega, tu puoi provare a fare anche i miracoli, ma la realtà che non riuscirai veramente a fare la differenza. Come se vai a uno school party, facciamo un esempio, in cui sono tutti ragazzini gasati, puoi mettere su qualsiasi cazzo di canzone e saranno gasati uguali. Quindi non è sempre facile fare la differenza, soprattutto in un'unica esibizione. Magari lo si vede su un DJ resident che si vede e conosce il pubblico del locale, piano piano riesce ad alzare il livello e si vede il percorso che fa. Ma quello lo puoi dimostrare quando sei già DJ resident. Se tu stai cercando di diventare resident in alcuni locali, o stai cercando di proporti a dei nuovi organizzatori, quella roba lì loro non la sanno. E quindi è come fai tu a dimostrare a queste persone che sei meglio degli altri. È complicato, quindi devi dare a queste persone qua la possibilità di metterti alla prova. Ma quanti come te gli stanno chiedendo mettimi alla prova? Tantissimi. E quanti lo stanno facendo addirittura gratis o svendendosi completamente? Anche qua ragazzi è un concetto importante che è un concetto di marketing di base. Il prezzo è posizionante. Cioè se tu ti proponi a un locale e gli chiedi 30 euro per suonare, quel locale lì si fa un'idea che tu vali 30 euro. Poi è difficile chiedegliene 300 a sera se gliene chiesti 30. Come? Non è detto che magari se tu gli chiedevi subito 500, ti dicevano di sì, ci mancherebbe altro. Non è che allora devo proporre il prezzo più alto perché è posizionante, quindi gli faccio dire che sono figo. Però sicuramente se ti proponi con un prezzo più alto, ci hanno l'idea del, ah ok, questo qua è un DJ che è abituato a questi cachet, che è abituato a chiedere X, che è abituato a prendere X, e di conseguenza nel mio cervello vale X. Il ragionamento è sempre il solito. Usciamo dal mondo della musica. Ci sono due orologi, non ne capisci assolutamente nulla, non hai il valore, non hai modo di capire quale vale di più, quale vale di meno. Uno vale 50 euro, uno vale 300 euro. Da ignorante quello che ti viene da pensare, che quello che vale 300 euro e più bravo vale di più. Perché se no, come mai costa di più? Quindi abbiamo tutti questo percepito su qualcosa che non conosciamo. Se vale di più, un motivo ci deve essere. Se chiede di più, un motivo ci deve essere. Quindi se tu ti posizioni come DJ che suona gratis, come DJ che chiede 30 euro, come DJ che prega il locale per farlo suonare, tu nel percepito della persona che hai contattato, rimani lì. È molto difficile che sali. Perché comunque se hai accettato lì, sì, magari se poi mi piaci, mi trovo bene, sarò disposto a darti di più, ma non riuscirai mai a salire di tanto, perché tanto ormai è questo è il mood, questo è il prezzo che si è settato. Quindi è molto importante anche non svendersi, soprattutto se ti proponi a persone nuove. Ma torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Quindi se fai parte di questa prima categoria di DJ, quindi il DJ che non porta persone in serata, che non ha un pubblico che lo segue, ma che vale perché è un bravo DJ, è bravo a, durante la serata, durante la cena, l'aperitivo, quello che è l'occasione in cui suoni, il matrimonio, a intrattenere, rendere l'evento di valore, è figo far ballare le persone e farle essere contente, puoi arrivare a essere sicuramente un DJ molto apprezzato, che piace, che lavora bene, e che può arrivare anche a guadagnare bene, perché comunque ci sono DJ che tranquillamente chiedono 300, 400, 500 euro a serata, e non portano assolutamente nessuno, te lo posso garantire, o DJ che addirittura magari fanno eventi aziendali, piuttosto che fanno matrimonio, o un'altra fascia di eventi che viene molto screditata dai DJ, ma dove paradossalmente ci sono molti più soldi che nei locali, e c'è molta meno competizione, perché tutti vogliono andare a suonare a Milano in determinati locali, quanti invece si stanno concentrando sugli eventi aziendali, o su altre categorie di eventi, veramente, veramente pochi, ma ci arriviamo anche alla fine di questo video a toccare tutti questi temi, quindi è, se il tuo valore è basato solo e soltanto sulla tua capacità in serata di far star bene alle persone, avrai sicuramente dei problemi che stai già, li conosci meglio di me, perché li starai già riscontrando, uno, è difficile distinguerti dagli altri, soprattutto se non ti danno la possibilità di suonare, cioè se tu non riesci a dimostrare a il proprietario, il PR, eccetera, che effettivamente quando poi suoni, tu, le persone apprezzano più la tua musica che quella di altri, sei più bravo a intrattenere di altri, o hai più l'occhio sulla pista di altri, se non ti fanno provare questa cosa qua, a tua parole, a vendere quello che fai, sei uno tra i mille, e questo è un problema pazzesco, uno, due, e ne sarai consapevolissimo, è iper soggettivo, iper soggettivo perché tendenzialmente chi decide, che sia l'organizzatore, che sia il proprietario del locale, in serata non è lì ad ascoltare te, sono persone che stanno lavorando anche loro esattamente come stai lavorando tu, ma sono loro che decidono, quindi poi il giudizio del è piaciuto, non è piaciuto, è bravo, e non è bravo, è magari fatto su, quei tre pezzi, che gli sono venuti in menti, magari gli hai messo due canzoni, che piacevano all'organizzatore stesso, e allora è contento, magari ha visto, che il locale era pieno, e l'ha associato a te, ma magari tu non c'entravi un cazzo, o viceversa, il locale era vuoto, e quindi colpa tua, quindi è, completamente soggettivo, chissà quante volte è capitato, che fai una cosa, ti dicono che non va bene, poi la rifai identica, ti dicono che è una figata, quindi è, non c'è una verità oggettiva, purtroppo è palesemente soggettivo, e se sei piaciuto a il PR importante, o se sei stato bravo, e poi arriviamo anche a toccare questo tema, a fare networking, a farti conoscere, è più facile che rimani, rispetto al fatto che ti mandano via, però è, tu puoi basare la tua carriera su, boh, il parere della gente, a cazzo di cane, che non ti ascoltano neanche, non sono lì a giudicarti, ma fanno altro, e poi vengono a, a sentenziare il tuo lavoro, quando tendenzialmente, sei tu che fai il DJ, loro non capiscono un cazzo, tendenzialmente di musica, quindi anche lì, è un problema che sicuramente, tanti DJ riscontrano, e che è frustrante, è brutto, perché tu, a un certo punto, ti metti anche in discussione, e dici, ma boh, ma sono io, ma sono gli altri, ma proviamo a fare cose diverse, quando tante volte l'atmosfera, sicuramente il DJ che fa musica, è una componente fondamentale, ma non è l'unica componente che conta, e questo è un altro problema, un altro problema ancora, è il fatto che, anche legato al cachet, è limitato, non è che puoi arrivare, a guadagnare migliaia di euro, a data, se non porti nessuno, e quindi tra poco arriviamo a questa parte qui, quindi è, è difficile che ci siano locali disposti, se è questa la tua abilità, a pagarti veramente tanto, e non è così, sicuramente che sfondi, o ti fai conoscere dal grande pubblico, quindi è un qualcosa che è complicato, completamente diverso invece, e si apre completamente un altro mondo, ma però sono necessarie, competenze molto più importanti, bisogna mettersi in gioco molto di più, e dire, no alt, io sì, faccio musica, e faccio le serate eccetera, ma, io, voglio sviluppare dei miei fan, io voglio sviluppare delle persone, che diventano fan, non del locale, miei fan, persone legate a me, persone che vengono in quel locale, perché ci sono io, perché io voglio essere un guest, e qua cambia tutto però, e qual è, la follia in tutto ciò, che tutti i cazzo di DJ vorrebbero essere guest, voglio trovare un DJ in Italia, o nel mondo, che dica, no a me piace fare la sala 3, alle 2 di notte, quando non mi caga nessuno, per 100 euro a data, 60 euro a data gratis, 3 drink, e una pacca sulla spalla, piuttosto che essere il guest a Tomorrowland, piuttosto che nell'evento importante del tuo genere, tutti vorrebbero essere dei guest, e quindi, cos'è che differenzia un guest dagli altri DJ? che è il cazzo di guest, ha dei fan, che vanno a sentirlo, e vanno in quel locale, perché c'è lui, e quindi come mai, i locali sono disposti a dare, 10 mila euro, 12 mila euro, quanto cazzo chiede adesso, 15 mila euro a Gabri Ponte, o ancora di più a Gigi Dug, o comunque si parla di più o meno con le cifre, e non sono disposti a dare 50 euro a te, perché loro hanno dei cazzo di fan, e portano del pubblico, e tu in questo momento no, e è evidente questo, è evidente che ci sono due fasce completamente diverse di DJ, ci sono quelli che non hanno un pubblico, e quindi se la giocano a, un range che può andare da 0 euro a 400, 500 euro a data, esageriamo, se ci sono proprio locali che hanno, molto budget da destinare, alla parte artistica, perché credono comunque, ed è la verità, che in un locale faccia la differenza, poi la musica di qualità, a prescindere dal fatto che il DJ porta gente o meno, perfetto, e qua invece, invece gli artisti, i DJ che portano pubblico, a che fasce arrivano, Steve Aoki quanto prende serata, quindi è, il concetto è semplicemente questo, quindi è, cos'è che differenzia i DJ guest, quelli che guadagnano tanto, quelli che fanno carriera, da gli altri, il fatto che hanno dei fan, e cosa ti permette di fare questa cosa? Uno, di chiedere molto di più, due, di non dover scendere a condizioni, con un cazzo di nessuno, perché qual è anche qua il discorso? I DJ in questa posizione, quindi senza fan, vorrebbero fare, la loro cazzo di musica, non la musica del locale, non la musica che vuole il capo del locale, o il proprietario, e gli sta anche sul cazzo, dover scendere a compromessi, o dover dire al, Pier importante, che gli dice mettimi questa traccia, cioè te la metto, perché non voglio, non volete giustamente, fare jukebox, volete fare DJ, però c'è un problema, che qua non hai un cazzo di potere, qua sei tu, come ce ne sono altri mille, qua non comandi tu, la verità è questa, perché arriva un altro, che chiede 30 euro in meno, e si dimostra abbastanza bravo, e a seconda di più, i gusti del direttore artistico, del Pier o del proprietario, e te, ciao e grazie, qua invece, non ti dice un cazzo di niente nessuno, puoi sbagliare tutti i cazzo di cambi che vuoi, e va bene uguale, non ti verrà mai nessuno a dire, che cazzo di canzoni devi mettere, perché la gente viene per te, la gente viene perché gli piace la cazzo di musica che metti tu, tu sei considerato un guest, prendi molto di più, non c'è un cazzo di paragone, ci sono proprio due mondi completamente diversi, e tu è palese che vuoi arrivare qua, perché chiunque vuole arrivare qua, qual è però la follia, che tutti quelli che sono qui, quello che dicono è, ma il DJ Pier è sfigato, perché io faccio il DJ, non faccio il Pier, i Pier sono quelli che portano gente, i DJ fanno i DJ, bravo, bravissimo, complimenti, avanti così, intanto abbiamo capito che quelli che portano gente, perché hanno dei fan, e quindi portano pubblico, sono quelli che guadagnano tantissimi soldi, che i locali sono disposti a pagare, che comandano, e che scegliono la musica, quelli che non portano gente, sono quelli che vengono presi a pesci in faccia, non comandano un cazzo, e sono sempre lì lì, che speriamo che rimango amico del proprietario, dell'organizzatore, perché ho trovato questo, sono riuscito a infilarmi qua, se mi tirano fuori da questo locale qua, torno a come ero due anni fa, un anno fa, sei anni fa, che sono di nuovo in mezzo a una strada, come DJ ovviamente, e quindi è palese, è evidente questo concetto, quindi non è il DJ che porta gente, è sfigato, no al contrario, è sfigato il DJ che non porta gente, perché vuol dire che, attraverso la sua musica, non è stato capace di crearsi dei fan, che vanno nella serata, perché c'è lui, semplicemente è un DJ, in quella serata fine, serata dopo c'è un altro DJ potenzialmente, quindi, il livello successivo è crearti dei fan, questa cosa qua è fondamentale da capire, ed è un cazzo di concetto, che se c'è in mente, che il DJ che porta persone è sfigato, toglie tutto dal cervello, perché, da dove è che arriva questa credenza, no? Perché il DJ che porta gente, non viene associato ad Hardwell, perché ovviamente è, se Hardwell, viene, prende un sacco di soldi, perché riempie il locale, si possono chiedere più soldi di ingresso, è normale che guadagni di più, se però invece, il direttore artistico, sceglie un altro DJ, rispetto a me, perché gli garantisce tre tavoli e cento persone, lui è un bastardo raccomandato, che fa il PR, e l'organizzatore è un coglione, perché sceglie, su quello che porta gente, non sul bravo DJ, eh no, alt, ci mettiamo d'accordo, cioè, oh, è sbagliato anche Hardwell, perché dovrebbe essere scelto, soltanto sulla musica, oppure, cioè, non è che si può essere, sì, Hardwell, se porta gente, e prende tanto va bene, questo qua, se porta gente, porta valore al locale economico, non va bene, quindi è, mettitela via, conta la musica, conta anche la gente che porti, perché alla fine i soldi nel locale, li fanno le consumazioni, gli fanno gli ingressi, e se hai un ristorante, quello che la gente ordina, eccetera, eccetera, quindi è, se porti gente, conta, e quindi quando tu ti propone il fatto che tu, hai un tuo pubblico, o, quantomeno se non hai un pubblico, fai capire che tu promuoverai attivamente la serata, ti dà un valore aggiunto, ti dà un valore aggiunto, e l'altro punto è, ok, ma io ho capito che quindi voglio diventare hardwell della situazione, prendendo esempi ovviamente estremi, ma come cazzo faccio io a tirarmi dei fan? Devi saper sfruttare, e si tornano a tutti i concetti che vi cogliamo con questo canale, in community da sempre, valgono per tutti gli artisti, devi farti conoscere attraverso i canali che oggi ci sono per farsi conoscere, che è principalmente i canali online, quindi devi saper sfruttare Instagram, devi saper sfruttare Facebook, se fai le tue canzoni devi essere su Spotify, devi essere su YouTube, devi promuovere quello che fai, devi creare un tuo brand, devi distinguerti dalla massa di tutti gli altri, devi imparare a creare delle relazioni nel mondo, soprattutto dei locali della notte, perché lì contano ancora di più, quindi è fondamentale il fatto che tu frequenti determinate persone, che conosci determinate logiche, e che piano piano inizi a instaurarti collaborazioni, che il tuo livello cresca, anche di valore aggiunto, che puoi dare locale, di esperienza, il fatto che se hai visto più realtà, quello sì che conta, non ho suonato il Cocoricò in terza sala, per 25 minuti, quindi prendi me, non gliene frega un cazzo di niente all'organizzatore, perché l'organizzatore è, tu sei uno dei DJ che porta gente, o sei uno degli altri 275.000, che mi scrivono ogni 7 secondi, se sei uno degli altri 275.000, in base a, se mi sta piacendo il DJ che ho adesso, se c'ho voglia di sperimentare gente nuova, se conosci qualcuno che ha voglia di farti suonare, perché per l'amore di Dio, non è che non esiste la raccomandazione, c'è nel mondo dei locali, ma, quello che non viene percepito, è il fatto dell'ok, ma, le relazioni contano nel mondo dei locali, nel mondo della notte, nel mondo dei DJ, nella vita, in qualsiasi cazzo di lavoro, è normale che se tu, per quello che fai, sei bravo a fare, ti fai conoscere, hai tante relazioni, conosci tante aziende, hai tante attività, questa cosa qua ti ripaga, e quindi significa che parte del tuo lavoro, non deve essere soltanto, preparare il tuo set, e suonarlo in discoteca, e mandare massaggi spam ai locali, perché così non vai lontano, ma è molto più ampio, è molto anche più complicato, ma dà molte più soddisfazioni, dà molti più risultati, se tu, oltre a lavorare sulla tua musica, sulle tue produzioni, se le fai a promuoverla, lavora appunto sulla parte di promozione, sul fatto di crearti un brand, sul fatto di comunicare, su Instagram, su Facebook, quello che fai, sul fatto di cercare di costruirti dei fan, abbiamo fatto mille contenuti, su come fare questo nel canale, e quindi inizi a lavorare, per distinguerti dagli altri, quindi tu sei un DJ, che però inizia a capire, come si promuove una serata, che però capisce, come cazzo funziona l'industria musicale, visto che comunque, sei in quel mondo lì anche tu, invece di non avere la minima idea, di cosa fa un'etichetta, di come funziona un'agenzia di booking, di come funziona un locale, e delle logiche che ci stanno dietro, e inizi a capire, che il valore di portare persone, contano, non è una cosa che devi screditare, che non devi ambire a suonare al Cocoricò, in terza sala, faccio il nome del Cocoricò, ma potrebbero essere mili locali, suonare a Ibiza, mezz'ora, un quarto d'ora, in back to back, ma devi lavorare, per costruirti dei fan, farti conoscere, e devi imparare anche a venderti, guarda, fa ridere, perché l'ho visto un messaggio, prima di dover fare questo video, stavo vedendo, come sai, noi abbiamo un'agenzia di marketing, tra le varie cose, e stavo guardando uno dei nostri clienti, che ha un paio di ristoranti, qua nelle nostre zone, ho visto il messaggio di un DJ, che si è proposto, col classico messaggio spam, dicendo, ciao, io sono X, faccio questi genere musicali, mi piacerebbe proporvi per il vostro locale, vi mando qua una foto, con i locali dove ho suonato, e se volete contattarmi, vi lascio il mio numero, e ha messo i locali dove ho suonato, che cazzo, vuoi che gliene freghi al ristoratore, quali sono i locali in cui ho suonato, magari neanche li conosce, non è quello l'approccio, l'approccio è sicuramente non di messaggio spam, ma di conoscere le persone, di capire che cosa vuole quella persona, perché se tu, soprattutto appunto, non porti persone, ma sei ancora in questa fascia, tu devi capire come rispondere meglio alle esigenze di chi ti paga, quindi sei tu che devi chiedere a lui, che atmosfera vuole nel locale, che idea ha di musica, quindi purtroppo, sei pagato per assecondare le sue di esigenze, non le tue di artista, ma le sue, se no suoni in cameretta, purtroppo funziona così, vuoi mostrare la tua musica senza limiti, senza nessuno che ti dica cosa fare, costruisciti dei fan, dimostra che ci sono delle persone che sulla tua musica, come la vuoi fare tu, ti seguono, e poi comandi tu, ma se sei qua, devi rispondere alle esigenze di qualcun altro, quello che devi fare è capire che cosa cerca quel locale, che cosa vuole, che cosa funziona, che cosa non funziona, e assecondare il più possibile chi c'è dall'altra parte, facendogli capire che tu sei parte della squadra, che non sei soltanto tu con il tuo interesse, ma che cercherai di promuovere la serata, che ti dimostrerai proattivo, e cercherai di creare una bella relazione con tutte le persone intorno al locale, alla discoteca, al bar della situazione, eccetera, quindi ragazzi questa cosa qua è fondamentale da capire, punto uno, punto numero due, la competizione tra DJ, no lui mi sta sul cazzo, non sono più bravo io, qua hanno sbagliato, qua fan cagare, no dovrebbero andare prima loro in apertura, poi io, no non è giusto che faccio l'apertura io, io sono più bravo, no lui non dovrebbe neanche esserci, tutti questi cazzo di DJ che si fanno la lotta uno con l'altro, ma figa, ma entriamo in un'ottica, che è difficile emergere, che è difficile fare questo lavoro, come qualsiasi lavoro dall'artista, dal DJ al cantante e rapper, e devi fare squadra con gli altri, quindi se ci sono altri DJ, è buona cosa che li conosci, perché una cosa che è molto intelligente, è il fatto che magari, se tu sei dentro un locale, tu puoi convincere l'organizzatore di quel locale, o il proprietario a dire guarda fai venire loro, li faccio venire qua, suoniamo insieme una sera, e poi fai venire anche loro, e tu puoi andare a suonare dove suonano questi qua, potete farvi scambio di locali, scambio di contatti, potete lavorare insieme, si espande la vostra rete di contatti, quindi è, tu devi trovare, come diciamo sempre a tutti gli artisti, nuove collaborazioni, nuovi DJ, devi lavorare, non in senso tu chiuso, che prepari il tuo DJ set e insulti gli altri, ma devi piano piano espandere, la tua rete di autorità all'interno del mondo della notte, il mondo dei locali, se è quello che vuoi fare, e devi piano piano emergere, io mi sono concentrato più su una parte di DJ, che appunto mira a suonare, fare date live, ovviamente c'è anche tutto il mondo delle produzioni, e di crescere da quel punto di vista, lì ci sono tantissimi video sul canale, che parlano di questo, lì ancora di più hai bisogno di competenze, ancora di più hai bisogno di sfruttare bene i canali social, sapere come funzionano, ancora di più hai bisogno di fare networking, perché anche lì quanti DJ creano produzioni, quante canzoni escono, e quante riescono a emergere, è ancora più complicato lì, quindi è importante togliersi queste convinzioni, che quello che conta è le raccomandazioni, io non devo portare persone, ah, premo anche l'altra parentesi, chi suona nei matrimoni è uno sfigato, nei eventi aziendali è uno sfigato, nel bar è uno sfigato, non è uno sfigato, bisogna anche sapere se tu lo stai facendo per gioco, lo stai facendo per lavoro, se tu lo stai facendo per lavoro, inizi a avere due bar e una discoteca con cui collabori, e fai tre date a settimana, anche a 80-100 euro, inizi a tirarci fuori lo stipendio, e non devi vedere questa cosa qua come negativa, perché nella musica serve budget per emergere, e quindi se tu hai dei budget da investire, in attrezzatura, ma soprattutto poi anche in marketing, in promozione, in budget per le sponsorizzate, in video, eccetera, 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 questa cosa qua poi ti ripaga gli investimenti che fai, se sono fatti con intelligenza, se c'è un business plan, se apri i concetti che noi divulghiamo, e quindi non è assolutissimamente stupido, fare i matrimoni, fare le date, e non è in nessun cazzo di modo screditante, perché tanto torniamo sempre lì, finché non c'hai un cazzo di pubblico, sei uno dei mille, se hai un pubblico allora è diverso, ma te lo devi costruire, per costruirtelo ci vuole tempo, devi promuovere quello che fai, per promuovere quello che fai ci vuole budget, il budget come lo crei? Facendo le cazzo di date live, quindi se vai a suonare in un matrimonio, se vai a fare l'evento aziendale, e se ti proponi, e se vai a capire dove le persone cercano i DJ, ti trovi una banalità, che fanno un DJ ogni 10.000, stai facendo le campagne AdWords, te ne dico una, potrei dirtene 270, stai facendo le campagne AdWords, per far sì che nella tua zona, nella tua città, nell'arco di 20, 30 km da dove sei, se qualcuno cerca DJ, DJ per matrimonio, DJ per evento, DJ per evento aziendale, appare tu come prima ricerca su Google, sai che c'è la possibilità di fare le campagne Google, e che potresti, se hai un sito che promuove quello che fai, e ti presenti bene, magari c'hai anche un brand, magari c'hai anche dei bei contenuti, li metti in leva, tu fai la pubblicità, questi cliccano, scelgono te, e tu magari ti fai quelle, 1, 2, 3, 10 date, se lo fai a Milano, fatto bene, ciao che 10, o se sei in una città, che ha tanta richiesta, ciao che 10, serate in più, ti stai promuovendo, per esserci su questi eventi, stai provando a fare le sponsorizzate, stai provando a catturare i tuoi clienti, perché quello che noi vediamo, nel mondo della musica, e in questo video in particolare, prima del mondo del DJ, che c'è molta superficialità, c'è molto una mentalità chiusa, c'è molto non mettersi in discussione, e mettere in discussione tutto il resto, invece inizia a dire, ma io mi sto muovendo bene sui social, ma io lo so usare Instagram, so come funziona l'algoritmo, ho mai provato a fare le sponsorizzate, in maniera professionale, so come funziona Facebook, sto lavorando per creare una fanbase, perché se non stai facendo nulla, a livello professionale, non potrai vivere di musica, perché non sei un professionista, perché non hai le competenze, per poter vivere di musica, quindi è i risultati, e questo vale per qualsiasi artista, ma vale in generale, i risultati che tu hai oggi, sono il frutto delle tue esperienze, delle tue competenze, delle tue azioni, quindi è o non stai facendo un cazzo, o stai facendo le cose sbagliate, o non hai le giuste informazioni, come si risolve? Se vuoi risultati diversi, devi cambiare quello che fai, e probabilmente se ti formi, se ti informi, e se inizi a uscire un attimino, dal mondo chiuso, dalla mentalità stretta, del mondo dei DJ, focalizzati sul, devo fare il DJ che spacca, lui è un coglione, quel PR lì è un bastardo, il proprietario, sceglie soltanto per raccomandazioni, e il mio obiettivo è suonare, in sala 4 a Ibiza, stiamo freschi, che riesci veramente a emergere, stiamo freschi, che riesci a vivere questo lavoro, con passione, in maniera positiva, perché la verità è che, anche qui, quanti sono i DJ oggi in Italia, che ragionano così, pochissimi, 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 quelli che conoscono come funziona l'industria musicale, che sanno fare marketing, che sanno vendersi bene, che sono stati bravi a fare networking, che contattano le persone, in ogni modo spammoso, sono pochi, te lo dico io, quelli che si suonano, ci sono quelli che sono fortunati, per ora gli sta andando bene, che magari si sono trovati bene, sono stati bravi anche a, costruirsi delle belle relazioni, con alcuni locali, quindi hanno quei due, tre locali dove suonano, e sono resident, e quindi guadagnano, e sono contenti, ma la verità è che, il locale va male, c'è il covid, c'è un problema, questi qua perdono quei tre locali, e sono punto, capo, devo ricominciare da zero, e non hanno la minima idea, di come cazzo fare, perché, sono finiti lì, per, un po' di intraprendenza, un po' a caso, non c'è della professionalità, non c'è la capacità di promozione, non c'è la conoscenza, dell'industria, degli strumenti, quindi è l'invito, è sempre quello di formarsi, di crescere, di aprire la mente, rendersi conto che, non è quello che stai facendo, probabilmente quello che porti ai risultati, che, se tu vuoi emergere rispetto a tutti gli altri, devi costruirti dei fan, devi farti notare, devi far conoscere la tua musica, perché se no, avrai tutti i problemi che ci dicevamo prima, quindi, spero che questo video sia stato utile, spero che abbia potuto dare, più spunti possibili a un DJ, per capire, alcune cose, magari le conoscevi già, mi auguro la maggior parte, ma, spero che sia stato di sprono a capire, che, quello che vedi, che sta facendo la gente intorno a te, quello che fanno la maggior parte dei DJ, non è veramente quello che va fatto, tante delle convinzioni che girano, sono completamente sbagliate, e, devi, prendere consapevolezza di tutti questi argomenti, noi ci vediamo, a un prossimo video, per questo video è tutto, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale, unirti alla nostra community, trovi il link in descrizione, dove siamo ormai, più di 2000 artisti, che ogni giorno si formano, per crescere con la propria musica, e qua, trovi di fianco a me, il video sugli 8 comandamenti, che è la base con cui partire a formarsi con noi, ciao!